Niente piazze stracolme e live partecipatissimi, per una sera il re della Taranta calabrese, Mimmo Cavallaro, si è fatto conoscere un po' più da vicino. Venerdì scorso alla libreria Mondadori di Siderno ha svelato l'uomo oltre che l'artista. Accompagnato dalla chitarra di Andrea Simonetta, ripercorso un pochino della sua storia musicale, senza tralasciare l'inizio. Arrivavo dalla campagna, dice, e Caulonia mi sembrava una città, racconta il leader dei Tarant Project, lui che a 14 anni viveva da solo e aveva fatto della chitarra alla sua compagna. Mi è sempre piaciuta la musica popolare, ma, racconta l'artista, per fare questo tipo di musica c'era bisogno di qualcuno che suonasse la musica popolare, non alla maniera dei gruppi folcloristici, dice. Mi colpì un ragazzo di Caulonia che veniva dalla Germania, Fabio Macagnino, racconta Cavallaro, e fu proprio con lui che il musicista formò il suo primo gruppo. E poi ancora il racconto dell'Arezzo Wave, l'incontro con Eugenio Bennato, fino alla nascita dei Tarant Project, e il primo dei tanti sona battenti tour. Un ruolo fondamentale la musica per l'uomo Cavallaro, tanto quanto l'artista, che oggi ammette ho superato le mie timidezze suonando per il coro parrocchiale. Ma è stato bellissimo incontrare la musica popolare, anche perché di musica popolare, come parlavamo prima, in qualche modo mi sono nutrito un po' da ragazzino, da bambino, vivendo a Gozza, questo luogo, nell'entroterra di Caulonia, all'epoca uno dei luoghi più isolati del territorio, dove non c'era la strada, non c'era la televisione, non c'era la corrente elettrica, che eravamo proprio immersi nel bosco. E l'unica canzone che ascoltavo, l'unica musica che ascoltavo, era quella di mio nonno, le zampogne, e poi i canti di mia mamma, della gente che lavorava nelle campagne. Quella è la musica di cui ho ascoltato per primo. Inizialmente poi trasferendomi a Caulonia Superiore per motivi di studio, non potevo viaggiare perché era molto distante, non c'erano mezzi di comunicazione, di collegamenti, allora a Caulonia è stato lì il luogo dove ho incontrato per la prima volta uno strumento con cui mettermi a suonare, la chitarra che suonavo nel coro parrocchiale con i ragazzi del coro. Da lì parte un po' la mia esperienza da musicista. Poi ho appassionato della musica, chiaramente si iniziava a formare i gruppi di musica leggera, dei cantautori, per un certo periodo ho fatto questo genere di musica. Fino a quando poi un giorno mi resi conto che dentro di me c'era qualcos'altro. era appassionato di Pinky Floyd, Francesco De Gregori, Venditti, insomma, Baglioni, però a un certo punto io ho le canzoni di mia mamma, i canti che ascoltavo da bambina sono le cose che veramente mi appartengono, allora inizia questa mia storia verso la musica popolare. Il primo gruppo che abbiamo formato era Ifolia, ho coinvolto un musicista di Caolonia che ritenevo abbastanza interessante, Fabio Macagnino, e da lì insieme parte il percorso dei gruppi di musica popolare. Spesso le canzoni che scrivo nascono o da tematiche che sono attuali, oppure nascono dai miei ricordi, dalle cose, dalle storie, dai luoghi che ho vissuto con molta intensità da ragazzo. Allora, Festa e Festa è una di quelle canzoni che nascono proprio pensando e ripercorrendo con la mente le esperienze da bambino. I luoghi hanno molto influito nella mia formazione, anche da uomo credo, perché ho vissuto tantissimo in questi luoghi un po' sperduti. Allora, ripercorrendo con la mente questi luoghi, a volte scrivo delle canzoni, tra cui Festa e Festa. Chiaramente avevo nel cassetto tantissime canzoni da ricerca che avevo effettuato in questi anni, allora ho pensato che era arrivato il momento di tirarle un po' fuori e fare un disco che contenesse questi due filoni della nostra musica popolare.